per spiegare a Johnny Roy che forse un po' sportivo voi siete sedentari siete tutti inciccioniti però se qualcuno di voi facesse sport o avesse mai provato a fare sport ad esempio quando tu fai la ciclette oppure il tapirulan quando fai uno sport aerobico vedi che arrivi ma che curling hai fatto te lo dico io che dove l'hai preso il curling, papella tu non hai fatto mai niente sei un papella